Il Movimento 5 Stelle mette a punto la strategia per il dopo voto. Faremo un appello alle altre forze politiche, dice Di Maio, e governeremo con chi ci sta, ma con la nostra squadra di ministri. Cambia passo il Movimento, ma non obiettivo, che resta il governo del Paese. Gli altri partiti insieme non arrivano al 51% in ragionamento di Di Maio. Se alle elezioni arriviamo primi, ma senza maggioranza numerica, pronti a lavorare per accordi programmatici con chi ci sta. Ma il candidato premier Grillino si affretta a precisare che il tabù alleanze non cade. Un appello a tutte le forze politiche per metterci insieme sui temi e non sugli scambi di poltrone o gli scambi di forze interne, di potere interne alle forze politiche. Quindi sia ben chiaro, eliminiamo dal vocabolario le parole alleanze, coalizioni. Sulla carta l'appello è a tutti i partiti, ma le opzioni più verosimili sono due, liberi e uguali. La maggioranza dei parlamentari attuali e degli attivisti propenderebbe per questa scelta, ma i numeri potrebbero non bastare, oppure la Lega. Ma sul carroccio c'è l'ipoteca Forza Italia. Se Salvini entrasse in coalizione con Berlusconi, probabilmente retonerebbe qualsiasi prospettiva di intesa. Di Maio ribadisce nessun appoggio ad un gentilone bis, come ipotizzato da Berlusconi, e lancia l'out-out. Al voto dice, l'elettore deve scegliere tra l'immobilità di PD e Forza Italia e il nostro cambiamento.